E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo le partite di Qatar 2022, guardatevi i video fatti, commenti alle altre, il calcio a mercato, recuperate tutto quanto devastate di mi piace, mi raccomando, e condividete il video con tutti i tifosi che conoscete vi lascio in descrizione anche l'app di numero 10, scaricatela che vi dà info, notizie e contenuti anche inerenti al mondiale e attivate il campanaccio perché poi stasera ci ritroviamo a fare il commento sulle altre partite ma intervengo a gamba tesa perché ieri c'è stata la sorpresa dell'Argentina che è stata battuta dall'Arabia Saudita oggi c'è un'altra grande sorpresa, la Germania che viene battuta dal Giappone in un girono oltretutto che vede anche la presenza di Spagna e Costa Rica, quindi Spagna-Germania sarà una partita assolutamente da seguire perché la Germania rischia di non potersi permettere più altri passi falsi allora è stata una partita nella quale poi abbiamo visto due volte per me, no? cioè nel primo tempo abbiamo visto un Giappone piuttosto fermo, un Giappone abbastanza rinunciatario un Giappone abbastanza passivo, che però ha avuto il merito, o meglio per me la Germania ha avuto il demerito di non chiudere la partita, per tutta una serie di motivi che poi analizziamo il Giappone è rimasto aggrappato alla gara e poi con le sostituzioni è andato veramente a ribaltare la gara perché penso anche ai due autori del gol, Asano, Dohan, penso a Minamino che ha fatto il tiro che poi è stato ribattuto e dal quale è nato il pari, veramente l'allenatore del Giappone che sembrava anche un po' Simone Inzaghi sembrava il Simone Inzaghi del sollevante, ha veramente ribaltato la partita ma anche proprio a livello di inerzie, non solo di risultato si è visto proprio uno stacco del Giappone tra primo e secondo tempo a livello di atteggiamento anche per me nel crederci, nel credere nella partita e nel risultato perché si è vista una Germania che con il passare del tempo ha dato sempre più speranze al Giappone cioè la Germania è stata una squadra che è andata incalando non aveva iniziato neanche molto bene perché la partita è iniziata già con una Germania in stile Francia di ieri sera cioè i primi dieci minuti della Germania erano già piuttosto lenti una squadra abbastanza compassata una squadra che faceva anche fatica a carburare, a trovarsi poi da lì c'era stata una sgasata, c'era stata una scesa ed erano saliti in cattedra due giocatori che per me comunque hanno fatto un'ottima partita nella Germania sto parlando di Musiala che se la squadra lo supporta, se la squadra riesce a fare un tantino meglio potrebbe essere anche un mondiale per lui perché è un giocatore veramente che anche oggi ha fatto dei giochi ha fatto dei numeri che meriterebbero meriterebbero un altro supporto e un altro tipo di azione da parte dei compagni di incisività e poi anche Raoum che a me è un giocatore veramente che fomenta moltissimo Raoum, quanto cazzo è forte? adesso voi mi dite nei commenti quanto cazzo è forte Raoum ecco, loro hanno fatto molto bene poi c'era da dire però che in questo con una squadra che era salita dopo i primi dieci minuti tant'è che sembrava un po' la replica di Francia-Australia di ieri si notava però l'assenza di tanti interpreti perché per esempio Gnabry per me non ha fatto una gran partita Müller era un fantasma e in generale diciamo anche Avers non è che abbia fatto chissà cosa è stata una Germania che ti dava sempre comunque l'idea di essere un po' lenta e soprattutto ti ha dato l'idea di essere leziosa molto leziosa e forse anche un po' convinta di riuscire in qualche modo a fare il 2-0 con una velocità insufficiente con un ritmo piuttosto compassato per me comunque loro erano convinti in un modo o nell'altro o tardi o presto di chiuderla o comunque di tenerla sotto controllo questo ha fatto sì che la gara continuasse poi sotto ritmo e quando si è arrivati nel secondo tempo che i cambi del Giappone hanno messo un po' di preoccupazione col Giappone che tentava un po' qualche risalita e qualche attacco se non altro in contropiede la Germania ha avvertito l'esigenza di chiuderla però per me aveva un po' perso l'inerzia e i cambi del Giappone avevano fatto smarrire qualsiasi sicurezza questo perché la Germania l'occasione per chiuderla o comunque l'occasione per essere più veloce e più incisiva ce l'aveva avuta sicuramente dopo l'1-0 a cavallo tra il primo e il secondo tempo la Germania aveva l'opportunità anche temporale di chiuderla doveva chiuderla doveva assolutamente chiuderla però si è vista una squadra molto lenta si è vista una squadra quasi svogliata si è vista una squadra indolente che andava molto sulle fiammate centrali che Musiala riusciva a creare e su due o tre compagni che seguivano l'azione ma poi per il resto abbastanza poco e probabilmente è stata anche una Germania che ha pagato l'assenza di un attaccante vero di un 11 diciamo tradizionale questa è una roba che sicuramente ti può essere utile con squadre magari inferiori nelle quali hai bisogno di qualcuno sul quale fare riferimento in area di rigore che ti smista la palla che favorisce gli inserimenti questo è mancato perché Avers è un giocatore diverso questo è forse un assetto che paradossalmente può fare meglio con le squadre più quotate però quando giochi con le piccole col senno di poi col senno di poi forse uno alla full crew sarebbe stato più utile schierarlo da prima però è anche facile dirlo ma soprattutto per me lui ha voluto giocare con questa formazione perché poi è quella classica cioè stante l'assenza di Werner e di altri centravanti la Germania che poi dovrebbe avrebbe dovuto affrontare le big è questa quindi visto che le gare non sono molte per me ha voluto subito scendere in campo con quella che è la Germania as we know it diciamo no però la Germania quello che ha pagato più di tutti per me è stato un ritmo insufficiente una gestione abbastanza spocchiosa della partita ecco mettiamola così ho visto una Germania molto molto compassata molto lenta molto a risparmio non è che non ci fossero idee di gioco perché poi quando vedevi la macchina muoversi diciamo quando vedevi i vari Gundogan Gnabry lo stesso magari Avers Musiala quando li vedevi dialogare nello stretto le idee c'erano i giocatori sapevano dove trovarsi il problema è che l'hanno sempre fatto a una velocità piuttosto bassa ad un ritmo basso e con non molta convinzione con supponenza al contrario il Giappone che è stato molto bravo a rimanere aggrappato alla partita a non darsi per vinto ed è una squadra che ha agito molto bene soprattutto con i cambi per me l'idea del mister è stata questa cioè lui ha detto andiamo a giocare contro la Germania infatti se voi avete visto i vari Asano ma anche soprattutto Minamino che è forse il riferimento per me lui ha voluto mettere una formazione un po' più coperta e tenendosi gli assi soprattutto per le partite dopo però ha detto beh siamo 1-0 la Germania vedo che non riesce a chiudere la partita mettiamo dentro cioè è stata una gestione situazionista mettiamola così situazionismo situazionismo nipponico che ti ha permesso di colpire al momento giusto al momento giusto io vorrei io penso che da questa partita qua la Germania debba soprattutto ricavare non non tanto un discorso tattico perché per esempio se adesso la Germania giocherà con la Spagna io andrei avanti a giocare quasi quasi con la formazione che si è vista oggi perché non ha senso per me adesso magari rinunciare a qualcuno per mettere full crew non è tanto un discorso tattico e tecnico può essere un discorso tattico in certe situazioni ma forse è più relativo alla gara con la Costa Rica però io quasi quasi metterei in campo quelli che hanno giocato oggi però deve essere molto più veloce il gioco deve essere molto più cattiva la squadra tutti gli interpreti devono essere presenti in campo perché altrimenti a questo ritmo a questa velocità con questo modo di intenderle partite senza mordente senza voglia di azzannare la gara non vai molto lontano poi c'è da dire che ho visto anche delle performance abbastanza contraddicenti tra loro perché se penso alla fascia dove c'era Raum Schlotterbeck dietro ha abbastanza sofferto va detto ha abbastanza sofferto Neuer anche è stato autore di una parata credo io tra le più belle parate degli ultimi dieci anni però sul secondo gol abbastanza colpevole un po' tutta la linea difensiva della della Germania in occasione del secondo gol nella fattispecie proprio Schlotterbeck ma anche Neuer insomma il secondo gol era sul tuo palo potevi anche fare qualcosa di più quindi una Germania abbastanza deludente va detto infatti i meriti del Giappone ci sono per carità però io vedo più dei meriti della Germania da questo punto di vista qua è sicuramente un'impresa storica del Giappone però vedo più dei meriti della Germania e dei meriti soprattutto a livello di intensità a livello di velocità questa è un'altra partita che ti dimostra in chiusura che giustamente le squadre che hanno magari un'intensità maggiore una grinta maggiore dei muscoli che lavorano meglio della voglia di aggredire di restare aggrappato spesso squadre magari anche tecnicamente inferiori ma che hanno quel fuoco quell'ardore quella capacità di mordere di colpire senza pietà hanno la meglio contro squadre magari più tecniche più organizzate ma che non ci mettono fino al fondo la birra la grinta e la velocità che nel calcio di oggi è necessaria ma è assolutamente giusto così come è successo ieri ditemi cosa ne pensate un caro saluto grazie a tutti grazie a tutti